E' l'8 febbraio ed è stata un'altra gran bella giornata, svegliato presto come ho solito fatto assistenza a Gianfranco, cioè praticamente fatto niente, ho perso un po' di tempo giocando al computer e poi dopo pranzo sono corso al colloquio della Decathlon, pioveva, è stato un colloquio diciamo interessante di gruppo, ci hanno diviso in due squadre, ci hanno chiesto di montare una camara d'aria ed una bici e regolare i freni, ma l'importante non era il risultato ma lavorare in squadra e penso che sia andata abbastanza bene, mi sono divertito. Poi c'è stato un breve colloquio individuale, penso sia stato carino. Dopo sono tornato a casa e un pochettino abbacchiato, stanco, pioveva molto, mamma mia, mi ha chiesto di non andare a teatro e io gli ho detto che non sarei andato a teatro. Ho continuato a fare un po' di, pochi compiti di Gianfranco, adesso sono le otto e mezza e dopo aver visto l'ultima puntata di Mr. Robot che ci ha delusi, vado nanna. Sì, sì, domani mi alzo presto, voglio, ho l'energia e la carica. Ops, ho fatto una puzza di fare un milione di cose. Ah, sto messaggiando con Alessia, sembra si impasica. Allora, magari ci vediamo se non diluvia. Spero tanto che non piovano. Sono contento. Grazie. Grazie.